pace a tutti ben trovati questa è la prima volta che siamo in diretta dalla pagina come avevo già accennato precedentemente e sono felice di essere qui con lea e che è stata anche una delle persone attraverso la quale dio mi ha incoraggiato per continuare queste testimonianze e poi dio ha fatto in modo che ci conoscessimo di presenza è stato veramente bello conoscerle un giorno mentre ero al campeggio dicevo signore mettimi persone davanti che devo fare testimoniare dimmelo tu perché io voglio essere guidata da te nel frattempo io dicevo come c'è ci parlo ogni giorno sono quasi sempre con lei tipo dio mi diceva non lo vedi che tra sto mettendo davanti e quindi mi è venuto di chiedergli ma tu e lei come se lo sapesse c'è anche se non diceva niente io sentivo che era come se se lo aspettasse da un momento all'altro quindi ti ringrazio per essere qui con me e con noi e ti volevo chiedere un attimo di tempo reggiare perché vorrei provare a condividerlo sulla mia pagina vediamo così raggiungiamo più persone anche quelli che non sono perfetto vediamo troppo forse non si può fare però poi lo condivideremo lì ok puoi iniziare da te la parola io ti benedica ciao a tutti innanzitutto dico io grazie a Deborah che mi ha steso l'invito anche se io tremavo già solo all'idea per me era un po' imbarazzante non sono una persona timida però effettivamente è più difficile attraverso i social comunque comunicare la propria testimonianza però non mi sentivo di tirarmi indietro allora la mia testimonianza la testimonianza molto semplice quando dico semplice non voglio sminuire l'opera che il signore ha fatto nella mia vita perché comunque l'opera di salvezza penso che è un'opera meravigliosa un'opera grandiosa che dio compie nella vita delle persone dico così perché sono nata da una famiglia di cristiani di credenti non di religiosi ma di credenti perché è ben diverso perché noi non presentiamo una religione e quindi ho avuto la grazia io dico il dono di poter crescere un ambiente sano quindi non ho fatto chissà quali esperienze non ero una cattiva ragazza non ho sperimentato chissà quali situazioni quindi per questo dico che la mia testimonianza è molto semplice però nonostante questo nonostante io fossi cresciuto comunque in un ambiente sano ho avuto la possibilità di leggere la bibbia sin da piccola di frequentare la scuola domenicale tutti i raduni i culti ogni settimana era qualcosa che è tassativo in casa mia non c'erano altri impegni ma si doveva andare al culto in casa mia si parlava della parola di Dio ci si chiedevamo a tavola si esponevano delle domande quindi diciamo che io sono cresciuta con dei sani principi e a quei principi io mi sono comunque aggrappata con tutta me stessa diciamo che non sono stata comunque una ragazzina un adolescente che ha creato grandi problemi alla mia famiglia avevo il timore di Dio anche perché come ho detto prima non si parlava di una religione ma io avevo visto realmente Dio in casa mia Dio era comunque un membro di casa il più importante addirittura di casa e quindi avevo potuto constatare con i miei occhi la realtà di questa fede avevo visto comunque i miei genitori affrontare i vari problemi che la vita poteva comunque eh purtroppo i problemi ci sono li abbiamo tutti eh affrontare i problemi con la presenza del Signore tra cui uno dei problemi eh più importanti che abbiamo affrontato e affrontato e affrontiamo nella mia famiglia eh la la situazione di salute di mia sorella la più piccola noi siamo tre sorelle siamo la più grande eh che ci svegliamo tutte di cinque anni io sono la seconda e poi c'è la piccolina eh mia sorella è nata con un problema eh affetta di autismo grave però ovviamente questa cosa è stata scoperta poi nel tempo non subito e quindi i primi anni della sua vita sono stati degli anni eh fatti di ospedalizzazione di eh di esami eh a volte del delle diagnosi sbagliate eh di situazioni particolari mia sorella per i primi mesi non si alimentava bene eh ricurgitava continuamente eh le avevano detto che aveva lo stomaco sotto sopra invece avevano fatto l'esame al contrario aveva fatto pure delle cure le avevano detto che era sorda cioè che è muta perché lei non aveva il contatto visivo non si non non faceva nessun movimento a qualsiasi tipo di rumore però ho potuto vedere comunque che né i genitori che la loro fede rimaneva incrollabile nel senso che non hanno rinnegato il signore eh nonostante ci fosse questo gravissimo problema in casa perché comunque aveva rivoluzionato quella che era la vita quotidiana giusto perché c'erano delle difficoltà non si non si poteva condurre comunque per quanto loro eh ci provassero c'erano c'era questo problema eh ricordo che loro andavano spesso in ospedale e quindi nonostante questo ho visto dei genitori che hanno comunque onorato il signore che hanno comunque servito il signore addirittura ovunque andavamo eh ospedali centri eh per questi ragazzi loro testimoniano di questo Dio grande che era ancora oggi capace di guarire e di fare grandi miracoli li vedevo come delle persone che incoraggiavano la fede che invitavano a cercare il signore anche in queste situazioni che per l'uomo sono impossibili quindi ho potuto vedere che comunque neanche il problema aveva ostacolato questa fede sono cresciuta anche con eh con la lettura della parola di Dio perché per i miei genitori era importante che noi conoscessimo la Bibbia mi dicevano sempre che dovevo essere io stessa a vedere come stavano le cose se erano se quello che mi veniva detto era scritto nella parola di Dio quindi ci caricavano anche della responsabilità di vedere se quello che ci veniva detto anche da loro si corrispondeva a quella che era la parola di Dio eh come dicevo sono cresciuta ai campeggi ho potuto vedere anche delle realtà spirituali perché spesso i miei genitori sono stati usati per la liberazione di persone che avevano dei legami spirituali perché sappiamo che eh quando si fanno determinate cose ne approfitto per dirlo si va dai maghi cartomanti eh si fanno queste cose per cercare aiuto in realtà non c'è nessun aiuto ma stiamo semplicemente aprendo le porte alle tenebre che non bussano come invece fa il signore che bussa alla porta del cuore ma entra e prende il dominio della vita delle persone e ho visto delle persone legate da da queste dal mondo delle tenebre e ho visto in particolare un ragazzo ricordo quando ero piccolina che lo portarono in casa per pregare eh che aveva uno sguardo cattivo eh usava delle parole brutte eh voleva fare violenza anche perché parlavano del signore alla sorella e quindi voleva usare violenza e lo vedeva l'abbiamo visto io e mia sorella la sera in un modo entrare a casa e l'indomani essere totalmente un'altra persona uno sguardo dolce una nuova una nuova vita una nuova persona quindi abbiamo potuto vedere io con le mie sorelle veramente l'opera di Dio quindi non erano delle favole che ci raccontavano i nostri genitori ma era veramente qualcosa di reale quindi crescendo io cercavo di eh astenermi da tutte quelle cose che potevano essere cose sbagliate quelle cose che sapevo che potevano offendere Dio diciamo che non ero alla ricerca di eh chissà che cosa ma avevo il timore di Dio sapevo che quello che mi era stato insegnato era per il mio bene e che serviva eh per eh potermi anche avvicinare al signore più mi sarei allontanata da quelle che erano gli insegnamenti che i miei genitori mi avevano dato più avrei rischiato di allontanarmi da Dio però poi all'età eh mi ricordo anche che senti la presenza del signore la prima volta all'età di circa sette otto anni perché mio padre suonava la chitarra a casa cantava e una sera mentre lui suonava e cantava cantava un cantico questo cantico dice Gesù è qui e gli è qui e si muove tra di noi e vuol fare meraviglie mentre mio padre cantava io sentivo la presenza del signore nella mia vita sentivo un peso come se io fossi una grandissima peccatrice oppure ero una bambina ma sentivo allo stesso tempo l'amore di Dio e mi misi a piangere però siccome mi vergognavo dei miei genitori e non volevo che loro magari mi vedessero stavo cercando in realtà un quaderno non lo trovo no no io piango per il quaderno ma in realtà avevo sentito la presenza di Dio toccarmi profondamente non me lo dimenticai più e ancora oggi quando sento questo cantico mi ricordo quando il signore per la prima volta mi face sentire la sua presenza una presenza che non so descrivere a parole piena di santità ma anche del suo amore diciamo che il signore aveva iniziato a mettere dei piccoli semini perché comunque i nostri genitori ci avevano insegnato comunque a pregare quando avevamo delle difficoltà se avevamo un problema quindi noi ci rivolgevamo al signore però questo non faceva di me una figlia di Dio quindi io mi ero fatta il mio progetto di vita poi quando crescerò sarò grande accetterò il signore mi battezzerò chiederò al signore di scegliere la persona che mi dovrà mettere accanto però da un progetto di vita mentale a poi quello che tu devi mettere in atto nella tua vita c'è un po' di differenza iniziava l'età dell'adolescenza e diciamo che non io non mi sentivo né una figlia di Dio perché effettivamente non ero figlia di Dio il fatto che ero cresciuto in un ambiente cristiano il fatto che leggevo la Bibbia il fatto che andavo in chiesa il fatto che spesso Dio parlava alla mia vita mi rispondeva e mi aiutava non faceva di me una figlia di Dio io sapevo benissimo me lo ripetevano spesso i miei genitori ma lo sentivo alla scuola domenicale raduni ai campeggi Dio non ha nipoti e io non ero una figlia di Dio ma allo stesso tempo non facevo quello che faceva il mondo addirittura i miei compagni mi dicevano ma perché tu non parli così come mai tu non puoi fare questo come mai tu non vai lì io non facevo neanche religione a scuola e quindi attiravo la curiosità dei compagni e io testimoniavo loro gli spiegavo per quale motivo io non partecipavo alla religione cattolica a volte anche gli insegnanti mi chiedevano mi facevano domande mi facevano intervenire poi quando la cosa non andava più bene mi dicevano va bene va bene basta fai silenzio mi interrompevano e quindi diciamo che non mi sentivo né del mondo e quando intendiamo dire del mondo né non facevo né le cose che facevano gli altri ma non mi sentivo salvata non era venuta in me una nuova nascita così iniziai a cercare il signore non lo cercai il signore perché avevo qualche crisi o qualcosa lo cercai perché sapevo che comunque se il signore fosse tornato in quel momento io non non sarei andata col signore sapevo che ero perduta come tutti gli altri pur essendo una brava ragazza perché per quanto possiamo essere dei bravi cittadini dei bravi figli dei bravi genitori delle brave persone anche a livello sociale delle persone bravissime che aiutano gli altri siamo dei peccatori davanti a dio abbiamo necessità di essere salvati e io questo lo sapevo bene così inizia a dire al signore signore io lo so che non ti amo non che non ti conosco però non non ti amo personalmente tu non sei diventato il mio personale salvatore e io so che ho bisogno di nascere di nuovo ho bisogno di fare questa esperienza con te pensavo che a questa mia preghiera il signore subito avrebbe aperto le porte mi avrebbe fatto sentire la sua presenza in realtà non era andata così non è andata così inizia a leggere la bibbia dire vabbè adesso il signore mi risponde adesso il signore interviene ma non era scattato niente come avevo come avevo iniziato a pregare così era finita la mia giornata così le settimane passavano così inizia a dire al signore ma non è che sono troppo peccatrice chissà tu non consideri peccato piccolo e peccato grande possibilmente tu guardi bene dentro il mio cuore vedi che c'è un cuore brutto proprio talmente brutto che io non posso essere salvata però lo spirito santo poi ti ricorda la parola di dio e sapevo bene che nella parola di dio c'è scritto che non c'è peccato che dio non possa perdonare che quando anche i nostri peccati fossero rossi come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve che chiunque confessa le sue colpe lui è fedele e giusto da perdonare quindi ho detto signore non è possibile tu non c'è un peccato che tu non possa perdonare quindi tu mi vuoi perdonare ho detto allora che cos'è che cos'è che non va e continuavo questa mia ricerca verso il signore io nella mia cameretta io il signore non sapeva nessuno che io ero a questa ricerca era una cosa una cosa mia personale iniziavo a cercare il signore ma non lo trovavo non sentivo la sua presenza nella mia vita così inizio a passarmi per l'avento un altro pensiero non so se il mio pensiero a volte magari l'enico mette certi pensieri nella nostra mente e l'altro pensiero era forse dio fa particolarità forse tu sei tra quelle che dio non vuole salvare forse non sei stata scelta per essere salvato ma anche quello era una menzogna lo sapevo lo sapevo benissimo lo spirito santo mi ricordava i versetti dove diceva che la salvezza è per tutti gli uomini che gesù è morto per tutti gli uomini che tutti gli uomini possono essere salvati che non c'è distinzione che dio non ha riguardi personali quindi c'era una carellata di versetti che smentivano le menzogne del diavolo o dei miei stessi pensieri perciò ho detto no signore non è neanche questo e inizia in me una crisi perché dissi signore ma che sta succedendo perché io non riesco a trovarti per quale motivo c'è questa chiusura verso di te ho detto signore io mi sto iniziando a preoccupare allora inizia a pensare ma vuoi vedere che tutto quello che i miei genitori mi hanno detto finora è tutto frutto della loro fantasia è tutta anche perché io sono una persona molto razionale quindi ho detto se io non lo trovo io non lo sto trovando lo sto cercando con tutto il cuore ma vuoi vedere che ho creduto a delle favole e magari mi sono lasciata condizionare perché comunque vivo in questo contesto perché poi capitava anche mentre parlavo con i miei compagni vabbè ma tu parli così perché i genitori evangelici e quindi magari questo pensiero iniziava a balenare nella mente ma anche lì il signore è intervenuto e mi disse tra un versetto mi disse voi mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore il signore mi fece capire che tutto quel tempo di attesa serviva a me per affinché il mio desiderio diventasse più forte affinché io lo cercassi con tutto il cuore e non perché era qualcosa che dovevo fare che mi ero prestabilita come meta della mia vita come tappa della mia vita ma dovevo sentire realmente il bisogno di cercare il signore e fu così che lo cercai con tutto il mio cuore mi ricordo che piangendo gli disse al signore signore io ti voglio nella mia vita io non voglio nient'altro io voglio te voglio venire con te ti voglio sentire nella mia vita e non ti so spiegare in che momento le cose sono cambiate su solo che mentre leggevo la parola di Dio i miei occhi si sono aperti avevo sempre letto la Bibbia forse è stato il primo libro che i miei genitori mi hanno messo davanti e mi facevano leggere ricordo mio padre quando ero piccola mi faceva leggere mi registrava tipo ci faceva fare tipo dei programmi quindi l'ho sempre letta la Bibbia era già mandito padre eh? eh sì ci ha mandato i social sì già aveva qualche idea e quindi leggevo la parola di Dio e mi si apriva un mondo cioè ho scoperto un pozzo senza fondo cioè nel senso la parola di Dio adesso era la voce di Dio che parlava personalmente alla mia vita e così inizia un rapporto col Signore io e Dio diventammo migliori amici lui era il mio miglior amico eh amavo passare del tempo col Signore leggere la parola proprio mi tuffai a come come se se avessi trovato l'oro veramente ehm io quando in questa fase comunque non andavamo più in chiesa durante la settimana perché mio padre cambiò il lavoro eh questo già un po' prima e quindi andavamo in chiesa solo la domenica io giocavo a pallavolo avevamo gli allenamenti la domenica c'erano le partite e capitava spesso che non potessi andare la domenica al culto il che è questo recava fastidio giustamente mio padre che voleva che noi andavamo a culto giustamente e quindi anche a me iniziava a pesare perché poi quando ho fatto l'esperienza col Signore giustamente io mi ritrovo lì a giocare a pallavolo cosa che mi piaceva tantissimo ma una parte del mio cuore diceva ma a quest'ora ero al culto eh Signore sono qui mi dispiace mi sentivo quasi quasi anche in colpa però era qualcosa che a me piaceva molto così dissi al Signore faccio una preghiera Signore io non ce la faccio a lasciare questa cosa non ce la faccio veramente però io ho detto tu fai tu fai tu muoviti tu questo lo dissi un po' di tempo prima mi feci male erano successi un po' di di svuiti tra l'allenatore e noi e io così di impulso dissi vabbè non vengo più me ne pentì subito e dopo perché io faccio sempre così il Signore poi mi fa fare le cose poi magari c'è il letto e me ne pento però già sono fatte me ne pentì però da quel momento in poi potrei frequentare i culti tranquillamente assiduamente avevo fatto l'esperienza col Signore e sentivo la necessità di dovermi battezzare perché nella parola di Dio c'è scritto chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato non basta soltanto credere ma c'è anche un comando che il Signore ci ha lasciato quello di battezzarci non è il battesimo che salva ma è una testimonianza pubblica che noi facciamo di questa scelta che noi abbiamo abbiamo deciso però io tentennavo e aspettavo perché più leggevo la Bibbia più mi vedevo difettosa e volevo a modo mio aspettare di essere un po' meglio un po' meglio no perfetta no perché sapevo come non sarei mai diventata perfetta però un po' meglio però era un pensiero sbagliato ci furono i battesi e mi ricordo che mi inizi a piangere tutto il tempo perché io sentivo che io dovevo fare patto in quel momento con il Signore e finì che non non mi battezzai e dissi vabbè Signore i prossimi battesimi io mi battezzerò perché il Signore mi face capire Lea tu non non ti battezzi perché sei perfetta tu mi hai accettato e ora c'è un cammino di santificazione tu sei un cantiere in un cantiere che io devo lavorarci avrei difetti ti dovrò fare vedere non è così quindi non ti puoi battezzare in vista della tua perfezione perché non ci sarà e quindi compreso questo dissi vabbè i prossimi battesimi io mi batteggio nel frattempo avevo circa 15 anni dico io ora da donna adulta che avevo un po' di fretta vedevo le mie compagne che si fidanzavano e così e anche io volevo un fidanzato però avevo fatto una preghiera quando ero più piccolina circa verso i 12 anni siccome i miei genitori su questo aspetto erano molto non severi avevano mi insegnavano dei buoni principi che col fidanzamento non si gioca posso dire siccome magari spesso sentono dire mio padre voleva per chi non lo capisce potrebbe sembrare diciamo che padre dittatore in realtà questo è l'amore di un padre cristiano perché innamorato di Dio vuole che le persone che ama di più soprattutto possano anche loro innamorarsi di Dio ovviamente quindi comprendete quando Lea dice mio padre voleva mio padre è proprio per farle innamorare di Gesù a loro in prima persona e non perché erano figlie di credenti perché come dico sempre Dio non ha nipoti no non aveva nipoti e quindi loro sapevano che comunque era una scelta importante e quando parlo di mio padre parlo pure di mia madre e quindi ci avevano inculcato questa idea che il fidanzamento comunque era una cosa seria non si doveva giocare con i sentimenti e che soprattutto è una scelta importante e come tutte le scelte importanti vanno presa insieme al Signore che è una guida infallibile e quindi sentendo questo io penso che questa preghiera è una preghiera che mi aveva messo il Signore è una mia esperienza lo sto dicendo che è così è una mia esperienza personale avevo fatto questa preghiera al Signore di conservare il mio primo bacio alla persona che il Signore mi avrebbe dato per marito però è una preghiera che io poi ho accantonato poi crescendo tu magari diventi grande però il Signore l'ha ascoltata e chiedevo al Signore di mettermi davanti questo ragazzo questa persona che aveva scelto per me io avevo molta fretta e il Signore un giorno mi disse manca poco manca poco mi parlò attraverso la parola ho detto manca poco che bello manca poco pensavo ho detto chi lo sa un campeggio perché le nostre idee non sono i nostri pensieri non sono mai pensieri di Dio in realtà nel gruppo con cui noi uscivamo con i giovani io ero la più piccolina si unirono dei ragazzi amici del fratello di un altro giovane della nostra comunità che non erano convertiti loro non venivano in chiesa ora io faccio apro una parentesi la parola di Dio su questo è chiara quindi non vi mettete con gli infederi sotto un gioco che non è per voi e rimane tale e ora vi spiegherò perché lo specifico Lea vuoi spiegare un attimo per chi magari non usa un certo linguaggio diciamo così che essere infedele non significa non essere evangelico pentecostale della scelta denominazione essere infedele significa che non è fedele a Dio quindi potrebbe essere per dire pure una persona che viene in chiesa che da una vita che viene in chiesa ma non ha mai fatto un'esperienza con Dio andiamo oltre nella profondità della parola cosa significa ecco ma anche perché comunque se ti interrompo ogni tanto è perché no 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 tranquilla mi metto dal punto di vista di chi ascolta e magari dice perché posso essere considerato infedele perché non sono evangelico ma giustamente infedele è che non ha un rapporto con Dio ecco ma anche il Signore ci spiega il motivo per cui ci dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi perché due per camminare insieme prima si devono accordare come una melodia se io faccio una melodia e tu ne fai un'altra non esce un bel suono ma esce un rumore se io cammino in una direzione e tu vai in un'altra nella direzione opposta sicuramente non ci incontriamo quindi il Signore lo dice anche perché sa benissimo che questo comporterebbe dei problemi non c'è comunione non ci può essere comunione ho detto questo perché questi ragazzi iniziavano a uscire con noi tra cui il mio attuale marito e me la faccio più breve scoprì che aveva una simpatia per me io avevo comunque per quanto potesse essere per me un bel ragazzo avevo comunque messo delle distanze perché per me era una cosa impossibile visto che non era comunque un figlio di Dio però il Signore quindi io non avevo non ero coinvolta dai miei sentimenti e dico questo perché questo aiuta a poter capire meglio la voce di Dio perché quando ci sono in mezzo i nostri sentimenti è più facile confondere la voce di Dio con i propri desideri e i propri sentimenti quindi avevo messo le distanze ho detto sì un bel ragazzo ma non non mi interessa però ricordo che il Signore mi parlò attraverso un sogno allora non non tutti i sogni vengono da Dio ma ci sono dei sogni in cui Dio può parlare le nostre vite quindi non è da prendere tutti i sogni lo voglio specificare però è vero che Dio può parlare anche attraverso i sogni e ricordo che feci un sogno dove vedevo questo ragazzo trascinato da una corrente bruttissima da un fiume in piena un mare un fiume in piena che lo trascinava e io ero al di fuori di questo mare una specie di porticciolo che guardavo questo ragazzo che era in acqua trascinato dalla corrente e dissi al responsabile della nostra chiesa responsabile dei giovani e anche consigliere di chiesa gli dissi guarda c'è questo ragazzo che ha bisogno di aiuto vacci aiutalo sta annegando è trascinato dalla corrente e il fratello mi diceva no non ci devo andare io ci devi andare tu e gli dicevo io no ma non muare così brutto io non ci andrò ne ore ne mai facci tu tu sei più grande ed è nato questo dibattito alla fine questo fratello mi dice il signore ha detto che ci devi andare tu e se ne va e io mi dispero perché io dico ma io in questo mare è bruttissimo non ci voglio andare e mi siedo e una mia amica una mia carissima amica mi abbraccia e mi dice lea tu hai ragione che non vuoi andare dentro questo mare perché effettivamente è brutto non è una tua responsabilità ma anche se quelle parole era quello che mi volevo sentir dire dentro il mio cuore c'era la responsabilità così mi alzai e mi mise a pregare e dissi signore se tu vuoi davvero che io vado ad aiutare questa persona tu mi devi aiutare e mi vedo che io entro dentro questo mare attraverso delle scale e respiro nell'acqua non ho mai visto la fine di questo sogno ma compresi che il signore mi stava dicendo qualcosa però io dicevo no signore non è possibile che tu mi dici qualcosa che è contrario alla tua parola io lo so benissimo che non c'è comunione tra la luce e le tenebre è una persona che non ti conosce non può essere e contendevo con Dio ma il signore più volte mi parlava e mi faceva sentire che era così addirittura io dicevo a lui che era inconvertito non aveva non aveva idea di che cosa fosse la parola di Dio che Dio parla gli dicevo che io dovevo pregare il signore che lui doveva prendere le sue decisioni senza considerare me perché se il signore mi avesse detto di no io non mi ci sarei mai fidanzata con lui e lui mi guardava giustamente come per dire questa parla col signore perché io dicevo devo aspettare che il signore me lo dice e guardavo e quando te lo dice questo signore quindi per lui era qualcosa di anche sì qualcosa di strano giustamente niente avevo deciso di non prendermi questa responsabilità ma il signore in un modo e in un altro ha permesso che ci fidanzassimo siamo fidanzati e diciamo che più volte durante il fidanzamento mi venivano dei dubbi perché a lui non interessava assolutamente nulla del signore era una persona indifferente aveva era devoto di una statua che noi abbiamo in città andava dietro a questa statua aveva il sacco una volta è venuto anche sotto casa mia con questo sacco io gli dissi guarda ho detto io cammino di qua tu cammini di là perché per me è qualcosa di sbagliato perché nella parola di Dio si è scritto che l'idolatria è sbagliata che noi dobbiamo adorare solo Dio e lo evangelizzai cioè il mio intento era quello di evangelizzarlo però in realtà inizialmente era più suo fratello che era interessato alle cose di Dio perciò gli dissi ma come signore ma allora cioè mi sono fidanzata con lui e devo parlare con suo fratello ma in realtà Dio sa quando è il tempo gli regalai una Bibbia partì al militare accaddero altre cose anche al militare che volevano distoglierlo comunque mentalmente comprese io dicevo sempre tu non devi cambiare religione per me perché non mi interessa che cambii religione non è un cambio di religione tu per me vuoi rimanere quello in cui credi che comunque non era neanche un credente era un religioso e io gli dicevo tu non devi cambiare religione perché non è questo è un'esperienza che devi fare col Signore e mentalmente aveva capito un giorno mi ricordo che mi visse finalmente a un culto che era venuto perché io non lo invitavo ho detto tu sai tu devi venire solo quando veramente senti il desiderio di cercare il Signore se lo fai per me non venire inizio a venire invece ai culti ma come entrava se non usciva un giorno invece mi disse che il Signore gli aveva parlato e aveva sentito la presenza del Signore e inizio a frequentare cercando il Signore iniziando a comprendere e alla fine chiese prima lui il battesimo e poi lo chiesi io ci battezzammo insieme e quindi il Signore aveva comunque confermato quello che mi aveva detto a me quindi effettivamente il Signore aveva un piano perché il Signore sa chi sono i Suoi e dico sempre mi piace dirla quando racconto questa parte perché potrebbe incoraggiare qualcuno invece a dire vabbè mi fidanzo con un inconvertito possibilmente poi si converte no la parola di Dio è abbastanza chiara in questa cosa e lo dice per preservarci tutte le volte che il Signore ci dice no in qualcosa non lo dice mai perché ci vuole privare di una benedizione ma al contrario ci vuole proteggere e io ho voluto sottolineare il fatto che non ero coinvolta dai sentimenti perché la mia non è stata una decisione basata beh mi piace poi vediamo se si converte il mio è stato un ubbidire a quella che era la voce di Dio che mi diceva io ho un piano per questo ragazzo e mi voglio usare di te anche perché penso pure che se non si fosse prima arreso a Dio non te lo saresti sposata no infatti lo dicevo è avvenuto prima la conversione e poi il matrimonio sì ma infatti io gli dicevo spesso di condividere una persona cioè di condividere di non poter condividere Dio con una persona che cioè dovrebbe essere la persona che ami di più su questa terra è penso la cosa più angosciante per questo una volta mi è stato detto ma perché voi non vi potete fare fidanzati con quelli che non sono evangelici e ho spiegato non è questione solo di essere evangelici è di avere lo stesso amore per Dio e cioè io lo faccio ancora più esagerato perché dico di avere gli stessi obiettivi anche perché si possono mettere assieme due che sono tutte e due credenti credenti in Dio amano tutte e due Dio ma hanno visioni completamente diverse e missioni diverse da fare cioè se uno pensa di andare in Africa un'altra persona pensa di andare in America come possono anche se amano tutte e due stare assieme quindi veramente c'è c'è di pregare quando stiamo cercando e stiamo chiedendo a Dio la persona che Lui ha preparato per noi perché Lui sa di più sì Lui sa di più e Lui conosce anche quello che possiamo affrontare nella nostra vita non significa che se il Signore ci guida in una direzione allora tutto fiderà sempre liscio ma Dio sa quello che noi il percorso che noi faremo è come come contribuirà al nostro bene come contribuirà anche alla nostra crescita spirituale anche per quanto riguarda la scelta della casa di quando sposarci abbiamo avuto un fidanzamento di sei anni cercavamo casa non trovavamo casa questo mi piace raccontarla perché comunque dico spesso che il Signore a volte cambia anche il nostro modo di pensare cercavamo casa non la trovavamo io la volevo cercare vicino casa mia anche perché volevo stare vicino alla mia sorellina ma nella zona dove abitavo io era quasi impossibile poter comprare casa una casa abitabile senza dover fare un mutuo mio marito non voleva erano fidanzati non voleva affrontare un mutuo e quindi questo ci recava ci portava difficoltà nel trovare una casa e addirittura quando l'abbiamo trovata nella mia zona il giorno prima sono venute degli inquilini e l'hanno tolta come per dire non è qui che io ho deciso così un giorno mi inizi a pregare gli dissi noi dobbiamo pregare per questa casa dobbiamo cercare il Signore e dobbiamo capire se è il mio modo di pensare quello sbagliato o se è il tuo modo di pensare sbagliato perché se no così non andiamo da nessuna parte perché non riusciamo a trovare un punto di incontro onestamente dico che pensavo che il Signore avrebbe cambiato il suo modo di pensare in realtà il Signore ha cambiato il mio modo di pensare eravamo andati a vedere una casa e questa casa dove abito io adesso era nell'annuncio mobiliare da tre anni ma io non sono mai voluta andarla a vedere perché si trovava comunque in una zona che per me all'epoca era troppo distante in realtà siamo sempre in città vicino a casa mia due chilometri può essere distante da casa mia ma per me era enorme la distanza e si presentava in una zona un po' più bruttina rispetto a dove abitavo prima io quindi io dicevo no non se ne parla io lì non ci voglio andare addirittura mio marito ce l'ha andata il giorno prima insieme a un altro fratello e il palazzo si presentava molto brutto non che adesso si presenti meglio però non si presentava bellino molto brutto quindi disse no niente non glielo possiamo presentare sicuramente lei dice no niente l'indomani l'indomani che loro erano andati a vedere questa casa avevamo pregato dicendo al signore signore se il mio modo di pensare è sbagliato cambia il mio se il suo cambia il suo e passiamo proprio da questa casa e lui mi diceva era poi questa la casa che io ti dicevo però lo so va che non è non è la casa adatta va e io improvvisamente gli dissi aspetta andiamola a vedere lui mi guarda con gli occhi sbarrati veramente vuoi andarla a vedere sì sì andiamola a vedere vi dico solo che in tre giorni abbiamo fatto tutto l'abbiamo fatta vedere i nostri genitori abbiamo fatto il compromesso dopo questi tre giorni l'effetto preghiera di cui io è finito perché mi inizia a dire ma cosa ho fatto ma no e quindi mi misi in testa che avrei lavorato per poi cambiare questa casa e feci così per un anno dopo che ci siamo sposati per un anno mi misi a lavorare un lavoro che non è che rendeva tantissimo economicamente non mi cambiava nulla ma mi tenevo occupata tutto il giorno mi faceva svegliare la mattina presto perché non avevo la macchina e quindi dovevo andarmela alle cinque del mattino con mio marito e mi lasciava da mia mamma perché era nella zona di mia mamma e andavo in chiesa che non capivo nulla perché ero talmente stanca che non capivo nulla e quindi diciamo che non era il lavoro adatto a me anche perché non aveva senso il mio scopo era quello di guadagnare per cambiare questa casa e ricordo che un giorno mentre ero da mia mamma mi lamentavo della mia casa e dicevo a me a casa mia c'è questo e qui non c'è perché mi hai dato questa casa ecco sì ecco lì e mentre mi lamentavo di una cosa specifica che non sto qua a specificare il signore mi fece comprendere facendomela vedere anche lì mi fece comprendere adesso stai esagerando ora basta adesso devi finirla e lo capì subito all'istante e dissi ma il signore mi ha rimproverato e da quella volta non mi lamentai più della casa anzi ringrazio Dio che mi ha dato questa casa non è una casa di lusso è una casa che prima o poi dovrò cambiare ma lo ringrazio perché questa è la casa che Dio ha scelto per me prima la distrezzavo nonostante gliel'avessi chiesta perché noi possiamo così a volte prima chiediamo al signore le cose poi quando Dio ce le dà quasi quasi ci lamentiamo e il signore mi disse ora basta lascia anche il lavoro e il signore mi ha dato da lavorare nel suo campo e di questo lo ringrazio non sono mancate le difficoltà perché le difficoltà ci sono ho avuto anche qualche problemino anche di salute e l'ho avuto subito dopo la gravidanza del mio secondo del mio secondo bimbo prima di lui ho avuto un aborto e quindi già mi ero approcciata alla gravidanza con un pochettino di preoccupazione volevo aspettare e avevo paura e chiese anche al signore di guidarmi anche in questa situazione gli disse al signore dimmi tu se è il momento che io devo avere quest'altra gravidanza e il signore mi disse sì mi disse sì ma subito dopo proprio subito dissi no no signore aspetta ancora ho paura ma in realtà già il signore me l'aveva dato questo bimbo però io non lo sapevo ancora avevo dei dolori e quindi sono andata nel panico perché quando già vieni da una certa situazione sei più sensibile e allora inizia a dire ma signore e se ho qualche cosa che non va e se mi sento male c'è qualcosa che non va bene dimmi tu se io sono incinta o meno e se tutto va bene ma me lo devi dire adesso ero in macchina ricordo sotto casa mia ero in macchina e feci questa preghiera scendo dalla macchina faccio il giro del mio palazzo e una mia vicina di casa che abbiamo le figlie che si sbagliano di tre mesi circa io avevo Gaia che poteva avere quattro anni quattro anni mi dà un giornale questo giornale nel nostro ospedale a Catania lo davano a tutte le donne in gravidanza o che avevano appena partorito e quindi lo davano era un giornale per i bambini io e il mio bimbo lei mi vede mi dice Leale aspetta ti devo dare una cosa ho detto cosa mi devi dare e mi dà questo giornale appena lei me lo dà in mano io lo guardo scoppio a piangere e gli dico sono incinta sono incinta e lei mi dice ma che stai dicendo io ho detto sì il Signore mi ha appena detto con questo giornale che io sono incinta giustamente questa ragazza dice ma che stai dicendo ovviamente non era convertita e le spiegai le raccontai che avevo pregato dieci minuti prima in macchina e avevo chiesto al Signore di dirmi se ero incinta o meno e il Signore mi aveva parlato in questo modo cioè io lo capì forte ma anche lei comprese dice effettivamente perché ti ho dato questo giornale io a te cioè abbiamo le bimbe della stessa età se non serve a me non serve neanche a te e anche lei capì che c'era qualcosa di strano e ancora oggi lei lo racconta dicendo io sono rimasta scioccata di come il Signore ti ha detto a te che eri incinta perché poi effettivamente ero incinta quindi lo confermò l'analisi e quando lei lo seppe capì che veramente il Signore si era usato di lei e quindi fu un motivo anche di testimonianza per questa ragazza però la gravidanza inizialmente sembrava andar bene poi verso gli ultimi mesi accusavo degli svedimenti insomma non stavo bene cose che però magari rientrano nella gravidanza mi impanicavo un pochettino però diciamo che andava bene però tutte le volte che leggevo la parola di Dio e pregavo per questa gravidanza capivo in modo sottile che non sarebbe stato un parto facile premetto che con Gaia ho avuto un parto violento e non sono arrivata in sala parto quindi avevo un po' paura a partorire quindi ho detto no un'altra volta non arrivo in sala parto vuoi vedere che non arrivo in sala parto e avevo il terrore del cesario iniziano i dolori arrivo a 42 settimane quasi mancavo un giorno a fare 42 settimane e mi metto nel tracciato arrivo in ospedale ho detto ok sono arrivata in ospedale e notiamo che il battito del bambino scende a ogni contrazione e quindi disse all'infermiera sono notato che scende il battito mi confermo che scendeva il battito e quindi mi stavano preparando per un cesario e io li scoppio a piangere no perché è un cesario io non lo voglio io riesco a resistere e in due ore arrivai comunque ad essere pronta per partorire ma il bambino non usciva e il bambino arrivò a 18 di battito ricordo che mio marito mi aveva messo una predica alle orecchie che era la predica su Yairo continuo ad avere fede il signore ti darà la forza del bufalo mentre io avevo le contrazioni avevo il dolore e vedevo i medici litigare tra di loro perché c'era chi diceva no aspettiamo c'è chi diceva no il bambino nasce morto a un certo punto il medico mi urla e mi dice questo bambino lo vuoi morto o lo vuoi vivo ho detto no lo voglio vivo allora alzati e preparati per il cesario e non ascoltare nessun ruolo lo disse con autorità io compresi che il signore mi stava dicendo alzati perché io comunque cercavo di evitarlo questo cesario e mi andai nella nella sala operatoria dove però l'anestesista mi disse che aveva sbagliato a farmi la puntura l'epidurale perché avevo il cuscino messo sotto che non doveva essere messo quindi io non so cosa aveva fatto quindi io lì giustamente sono entrata nel panico però in quel momento gli dissi mi dia la mano e ho iniziato a pregare il signore a dire signore ti prego aiuta mi ho detto qua non ho sbagliato ho detto ora voglio vedere io che non cammino più e pregavo il signore ho pregato il signore è nato il bambino il bambino aveva un problema ai bacinetti renali che erano dilatati e quindi c'era la presenza dell'urologo se il bambino presentava questa situazione probabilmente doveva essere operato il bambino è nato 4 kg di 100 per questo aveva questo battito così basso non riusciva ad uscire e quindi grazie a Dio che mi hanno fatto un cesario perché effettivamente rischiava il bambino di morire realmente mentre piangeva si aprono questi bacinetti renali e il bambino non ha bisogno comunque neanche dell'intervento ma la mia ripresa fisica non avviene velocemente purtroppo ho bisogno di una trascursione che perché avevo carenza di ferro ho dovuto fare di ferro mi sono sentita male non mi vedevo non riuscivo ad alzarmi velocemente e non era per la puntura che mi avevano fatto sbagliata perché poi i piedi li sentivo ma non stavo bene fisicamente non riuscivo a riprendermi vedevo tutti gli altri che si riprendevano invece io no mi è venuta una flebite a causa di di questo ferro che mi mettevano quindi mi hanno mandata a casa con la mena comunque otturata si è infettata e mi è venuta la flebite ho avuto un un blocco intestinale per 15 giorni tanto che pensavo che ho detto vuoi vedere che mi hanno chiuso ignorantemente giustamente andato al medico e gli ho detto non è che mentre mi facevano il cesareo mi hanno cucito e mi hanno chiuso qualcosa e quindi non riesco più neanche ad andare in bagno in realtà poi lo compresi dopo ero troppo debole e anche lì il signore mi aiutò perché io dicevo che stavo male mi sentivo male mi sentivo mancanza di concentrazione mi sentivo tremare inizia a perdere peso e tutti mi guardavano come per dire all'inizio cercavano di aiutarmi i parenti e tutti gli altri poi quando inizia a fare dei controlli giustamente non trovavano niente il medico inizia a dirmi avrai la depressione post parto in realtà non era quello ma stavo effettivamente male il signore mi aiutò anche per quanto riguarda questo blocco che avevo perché ricordo che feci l'unzione dell'olio e anche lì il signore mi aiutò perché mangiai uno yogurt dopo che avevo fatto di tutto per riuscire a sbloccarmi dopo l'unzione dell'olio mangiai uno yogurt con quello yogurt riuscii a bloccare tutta la situazione ma io non stavo bene e tanto che inizia a dire basta mi scrivo i miei sintomi e non dico più niente a nessuno lo dico solo a Dio e scrivevo nei miei quaderni e dicevo al signore io mi sento male signore tu lo sai non è che sono depressa ho detto io ho voglia di badare a questo bimbo io mi alzo pur stando male ma veramente mi sentivo male avevo mancanza di concentrazione e il signore mi illuminò dopo otto mesi facevi un'ecografia e scoprì che avevo una tiroide autoimmune feci l'ecografia e se ne accorsero e avevo i valori talmente sballati che il medico mi disse sono sbagliati perché non è possibile che tu riesci a stare all'impiedi con questi valori se no ti avrei dovuto ricoverare e io gli dissi dottore io è otto mesi che le dico questo male e lei mi ha preso per pazza però diciamo che il signore comunque mi ha aiutato anche in questa situazione perché comunque stavo male avevo continuato ad avere i sintomi ma già sapere cosa avevo comunque questo mi rasserenava feci l'unzione dell'olio questo lo voglio raccontare perché io sono una persona molto timida anche con i miei genitori e quindi avevo chiesto al signore signore se tu mi vuoi guarire attraverso l'unzione dell'olio che è specifico per chi non sa non è l'olio che guarisce ma è la fede la fede di chi prega sia della persona interessata ma anche di chi prega insieme a te e l'unzione dell'olio è un comando che il signore ha lasciato nella parola di Dio quindi anche l'ubbidienza che è è l'ubbidienza è un atto di fede è un atto di fede non è l'olio che è miracoloso è sempre Dio che guarisce e io gli dico al signore signore se tu vuoi che io faccia quest'unzione dell'olio ti chiedo due cose uno che qualcuno prima di me chiede in modo tale che io non lo chiedo cioè direttamente mi aggiungo io è che non ci siano i miei genitori perché era che può sembrare assurdo ma io mi imbarazzavo e i miei genitori venivano sempre in chiesa perché mio padre suonava io cantavo lui suonava e quella sera non venne in chiesa io faccio l'unzione dell'olio tornai a casa è tutto come prima chiamai i miei genitori e dissi come mai non siete venuti oggi al culto e mia madre mi disse c'è tuo padre che è turbato e ho detto perché è turbato perché il signore oggi non ha voluto che lui andasse in chiesa sentendo quelle parole ma veramente allora tu non l'hai fatto cioè poteva anche succedere che gli dava un impegnamento in realtà proprio lui comprese che c'era qualcosa che non andava cioè che il signore l'aveva tenuto a casa cosa era successo gli si era fermato l'orologio per un'ora proprio il tempo che lui aveva per andare a casa e cambiarsi e lui comprese che c'era qualcosa di anomalo e diceva io non capisco perché stasera il signore non ha voluto che io andava in chiesa io mi senti zitta non raccontai nulla solo una settimana dopo quando lo vedevo ancora turbato ero andata a pranzo da lui e c'era lui così messo così turbato che pensava sempre a questa storia come mai il signore non ha voluto che io andassi in chiesa quella sera e mio marito gli disse lei lo sa e io lo so pure qual è il motivo lei dice qual è il motivo e a quel punto io lo dovevi raccontare mio padre si mise a ridere però ho visto la sua espressione come per dire e da quella volta piano piano ogni giorno che passava mi sentivo sempre meglio ma in realtà quella era soltanto la punta dell'iceberg perché anche se mi stavo riprendendo c'era preparata per me una prova ben più grande non so qua specificare ma una prova ben più grande che si stava preparando nella mia vita perché a volte il nemico si muove in un modo talmente sottile che prima ti indebolisce anche fisicamente e poi ti attacca perché sappiamo che dice la parola di Dio che il nemico va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare però il Signore posso dire e questo l'ho capito dopo sin dall'inizio mi aveva guidato sin dall'inizio mi aveva protetto e sin dall'inizio mi aveva illuminato ho affrontato questa prova insieme al Signore io e Dio una prova pesante dove effettivamente anche la mia il mio rapporto con Dio è stato messo in discussione perché a volte quando tutto va bene siamo bravi a dire gloria a Dio la parola di Dio dice questo quando iniziano ad esserci dei problemi e io venivo già da una situazione che comunque avevo dei problemi a casa con una situazione familiare mia sorella che sta male però quando poi ci sono alcuni problemi che si affacciano la nostra vita è come se il Signore ti mette poi davanti una scelta e ti dice hai questo problema hai questa situazione cosa vuoi fare adesso vuoi continuare a servirmi o adesso vuoi voltarti e andartene e non vi nego che in un primo momento il pensiero di dire basta Signore no torno indietro c'è stato mi sono voltata c'è un verso che dice voi avete voltato la fatta e mi sono soffermata su questo verso perché ho detto perché a volte usi l'espressione voltare la faccia e altre volte voltare le spalle e ho compreso che a volte voltare la faccia è quando noi siamo tentati di guardare indietro ma quando voltiamo le spalle vuol dire che ci stiamo stiamo camminando verso un altro giusto e io stavo guardando da un'altra parte volevo voltare la faccia perché il dolore era grande perché comunque il diavolo in questi momenti ti propone la sua soluzione e devo dire e lo dico perché è vero a volte la soluzione che il diavolo ti propone è umanamente più facile è umanamente più risolutiva è umanamente più indolore invece il percorso che il Signore ti fa fare è più lungo è un po' come girare quando il popolo di Israele ha dovuto girare nel deserto ecco io dico io ho dovuto girare nel deserto inizialmente il Signore con me è stato in silenzio io lo chiamavo e ho detto Signore tu sei arrivato tardi un po' come hanno fatto le sorelle di Lazzaro dicevo Signore tu se fossi stato qua prima sei arrivato tardi troppo tardi per me e invece il Signore mi disse io sono arrivata al tempo giusto e al momento giusto e mi ha fatto vedere che mi aveva guidato in tutta questa situazione che era stato lui ad aiutarmi sin dall'inizio ricordo che mi parlò anche attraverso un cantico il cantico è una battaglia dove diceva questa è una battaglia che tu stai affrontando ma non ti toccherà perché il nemico non sa la fede che tu hai ed effettivamente noi a volte non sappiamo la nostra fede il Signore permette perché Dio permette le prove non ci ha promesso sempre il sole Dio le permette le prove non per farci del male ma per farci crescere per avere un rapporto più intimo con Lui io posso dire che è stato il periodo uno dei periodi più brutti della mia vita però in quel periodo ho conosciuto di più il Signore ho fatto delle esperienze col Signore che penso in tutta la mia fede non avevo mai fatto il Signore che ti parla di notte il Signore che ti ti fa avere delle visioni il Signore che ti guida che ti mette dei pensieri ho visto un Dio vivente nel periodo più brutto è vero in un primo momento ho accusato il Signore in un primo momento volevo fare di testa mia non sono stata perfetta nella mia reazione però il Signore mi ha aiutato mi ha parlato mi ha sollevato ci sono stati periodi che non potevo dormire la notte circa due annetti avevo dei disturbi durante la notte avevo anche degli attacchi di panico mi addormentavo alle tre e mi svegliavo verso le cinque del mattino non dormivo proprio così ogni notte così decisi di impegnare quel tempo alla parola di Dio ad ascoltarmi i culti ho detto ok tu mi disturbi di notte non mi fai dormire mi fai avere degli incubi e allora io cerco il Signore quando mi misi a cercare il Signore passò poco tempo che mi lasciò in pace iniziai a dormire la notte ricordo anche che il Signore mi consolò mi aiutò in certi momenti mi ha anche tirato fuori dal periodo mi ha preso per i capelli e lo ringrazio perché comunque anche nei momenti più brutti lui comunque ci sta vicino a volte è l'unica persona che veramente ci può capire l'unica persona che sa quello che noi viviamo perché per quanto gli altri ti possano voler bene ti possano voler aiutare solo Dio conosce il peso che a volte noi portiamo le prove le prove che noi affrontiamo le possiamo affrontare solo con il Signore io lo ringrazio perché lui mi ha mi ha dato vittoria perché se inizialmente è stato in silenzio è vero che c'è stato un periodo in cui lui è stato in silenzio poi all'improvviso Dio ha precipitato le cose tutto di botto mi ha liberato all'improvviso mi ha fatto vedere la sua gloria e mi ha fatto vedere che anche quando io pensavo che lui era in silenzio in realtà lui mi stava proteggendo comunque mi stava aiutando lo stesso e lo ringrazio perché nonostante io non sono stata del tutto fedele non sono stata ci sono stati momenti in cui ho detto ok signora ora cosa faccio e adesso quasi quasi volevo gettare la spugna lui non mi ha lasciato non mi ha detto bravo Alea ora vuoi lasciare la spugna perché le cose non vanno come hai pensato tu il Signore non mi ha abbandonato anzi il Signore mi ha convinta mi ha fatta convinta nel senso mi ha ha ragionato con me mi ha persuasato non riuscivo a trovare la parola non è stato un dittatore con me mi ha detto è così e basta no mi ha mi ha convinto ha aspettato che io comprendessi mi mi diceva anche guarda che quella non è la soluzione guarda che anche se tu pensi che forse facendo in questo modo tu ti sentirai meglio in realtà non è così è un inganno e pensaci bene e lo ringrazio perché il Signore tantissime volte è venuto al mio soccorso e mi ha aiuto mi ha aiutato e quindi posso dire a gran voce che nonostante noi possiamo affrontare delle prove dei visti aceri lui è l'iddio che comunque ci rimane vicino quello che non ci lascia mai noi rimaniamo a volte infedeli nei suoi riguardi diventiamo infedeli nei suoi riguardi ma lui no lui non non cambia è l'iddio che non cambia a volte non comprendiamo i suoi piani io non posso dire di comprendere tutto quello che Dio fa nella mia vita a volte dico signore ma che sta succedendo e il Signore mi dice ti devi fidare devi imparare a fidarti io mi definisco un po' la Tommaso di questi giorni perché io metto molte volte in discussione quello che il Signore mi dice devo dire ho capito bene non ho capito bene però il Signore è paziente e mi viene incontro e questa è la mia la mia testimonianza ho cercato di racchiudere un po' tutto sì me ne sono resa conto però una cosa che su cui riflettevo anche quando mi hai raccontato precedentemente la testimonianza era cioè veramente come Dio anche rispetta le nostre personalità nel senso cioè noi siamo totalmente diverse anche io e tu per esempio però Dio ha il suo modo di parlare anche personalizzato cioè nel senso in base alla persona sa come prenderci e non lo fa mai con arroganza e con c'è che ci impone le cose c'è cerca veramente con il suo amore di persuaderci e ho usato questo termine perché termine perché c'era c'è un versetto che dice Signore tu ci hai tu mi hai persuaso e io mi sono lasciato persuadere perché perché Dio non è che ci usa come burattino come persone ipnotizzate no che quindi dice tu mentre non capisci niente io ti ti persuado ti cioè no io mi sono lasciato persuadere perché è proprio una relazione anche di tutta la tua testimonianza mi è piaciuto proprio questa questa relazione che è venuta fuori no perché in ogni cosa c'era un dialogo con Dio Signore però questa cosa cioè e poi è inutile anche negare le cose a Dio cioè no va bene Signore l'hai detto tu quindi va bene cioè come si dice prendersi tutto quello che viene senza batterci io quella è falsità secondo me perché ok che si deve avere fede ma quando Dio dice venite discutiamone assieme è perché Dio vuole proprio un rapporto con noi e ci sono cose che anche lui non possibilmente non ci spiegherà mai perché noi non cioè non sono alla nostra portata di recente avevo sentito anche una predica che diceva proprio questa ci sono cose che Dio non ci spiegherà mai ci sono cose che ce le spiegherà nel futuro ma ci sono cose che Dio non ci spiegherà mai perché non li potremmo comprendere però lì c'è poi di fidarci veramente del suo amore ed essere certi che Dio qualsiasi cosa permette lo fa per il nostro amore però si sta a vedere quando qualcosa è da Dio e lì si vede che rapporto c'è con lui perché lì possiamo capire se qualcosa è da Dio o no dal rapporto che abbiamo con lui e quando la nostra fede viene provata anche lì si vede il tipo di rapporto che c'è con Dio se è tutta una facciata se come dice la parola di Dio se è paia o se è oro oggi si parlava proprio di questo al culto dove sono perché io sono tornato dal culto si parlava proprio di Jobbe si parlava di Jobbe che giustamente aveva tutto da parte di Dio aveva una bellissima famiglia eppure poi Dio ci ha permesso che ci fosse per lui la prova ed è lì che esce fuori poi quello che è la nostra reale intenzione nei riguardi di Dio perché poi la prova fa anche questo fa uscire quello che c'è veramente dentro il nostro cuore fa conoscere a noi stessi fino a dove siamo arrivati noi con la nostra fede e cosa c'è da togliere a volte il Signore ci fa comprendere anche guarda che tu davanti a questa situazione reagiresti così e allora là il Signore ti invita poi a dire c'è bisogno di me per superare questa cosa e mi piace perché Dio è un gentiluomo io dico sempre il Signore potrebbe convertire tutti così però Dio rispetta il nostro libero arbitrio cioè lui non vuole neanche che noi siamo dei creduloni senza che credono così senza porsi delle domande porsi delle domande cercare chiedere al Signore e avere una relazione io devo capire quello che che è la mia esperienza io la devo la devo fare insieme al Signore se ho delle domande se ho dei dubbi il Signore me le spiega le cose poi ci sono come dici tu delle cose che delle cose che noi non possiamo comprendere che il Signore magari ci farà capire quando siamo più maturi spiritualmente oppure se le spiegherà direttamente in cielo ma questo non significa che il Signore vuole che noi crediamo così senza la cieca perché sennò diventerebbe un credere fittizio finto mi aveva colpito quando avevamo parlato in privato quando mi hai detto che tuo papà cioè tu in genere quando volevi capire qualcosa che non comprendevi della parola di Dio direttamente andavi da tuo padre da tuo padre sempre da tuo padre poi invece c'è stato un momento in cui hai cominciato a fare l'esperienza personale che hai detto Signore io voglio che me lo spieghi direttamente tu e così è stato perché tante volte ciò che frena le persone nel leggere la Bibbia è perché pensano che per loro è troppo complicata ma in realtà io dico sempre che io ho iniziato a leggere la Bibbia quando avevo solo i sei anni e non è che io ero un genio o che ero al di sopra della media a livello di intelligenza che quindi avevo oppure ero l'eletta nel senso che ero l'unica che la poteva capire grazie a Dio che sono stata eletta nel senso che Dio mi ha amato però c'è la Bibbia è veramente a portata di mano di tutti perché altrimenti Dio non faceva in modo che venisse divulgata se ci fate caso la Bibbia è un libro che è a livello proprio mondiale che sta arrivando oppure nei paesi dove è vietata la stanno leggendo perché Dio vuole che tutti lo possano conoscere ma perché? per condividere il suo amore perché Dio è amore e anche quando lui ci ha creati ci ha creati proprio con questo proposito di condividere ciò che lui è cioè amore ci ha condivisi ci ha creati proprio per farci vivere nella gioia nella sua gioia ha creato delle cose per noi per farci godere di quelle cose eppure l'uomo dopo aver peccato ha rovinato tutto sempre di più sempre di più perché ha continuato poi sempre di più a peccare ma Dio non è che gli ha detto pecca l'ha creato per dire vabbè ora tanto peccherai no avevano una scelta da fare e anche questa sera per tutti coloro che anche ascolteranno poi indifferita questa testimonianza non rimandate ancora la decisione da prendere con Dio perché Dio non è un Dio né lontano né disinteressato perché alcuni dicono Dio in genere si fa i fatti suoi assolutamente è vero che Dio si fa i fatti suoi infatti i fatti suoi siamo noi perché fatto è anche sinonimo di creato quindi lui ci ha creato quindi è normale che si fa i fatti suoi e cioè si preoccupa di noi e lui si vuole fare conoscere da noi avere una relazione ora questa sera Dio sta chiedendo a ognuno di noi vuoi avere una relazione con me e a chi già l'ha conosciuto a che punto sei della tua relazione con me ancora c'è quell'amore della prima volta che mi hai incontrato o mi stai trascurando o non sono più la tua priorità o ti stai fidando più degli altri che di me delle altre cose della scienza della medicina che sono cose buone ma sono sempre sottomesse all'autorità di Dio perché è Dio che ha dato l'intelligenza anche ai medici agli scienziati e tutto quindi ricordatevi che non c'è amore più grande di quello di Dio e a lui dobbiamo dare veramente dobbiamo fare di lui la nostra priorità perché è l'unico che la merita realmente perché ci amati di un amore quasi immenso che è impossibile non innamorarsi di Dio io ogni giorno vedo quanto Dio ci ama anche nelle piccole cose e dico ma come si fa a non amare Dio quando alcuni dicono ma come fai a credere in Dio io invece dico ma come fai a non credere in Dio basta che ci guardiamo attorno come si fa a non credere in Dio e tutto il marcio che c'è non è colpa di Dio è proprio dovuto alla scelta e alle scelte sbagliate degli uomini però un giorno ci sarà la resa dei conti e chi sarà stato innamorato di Dio andrà a casa da papà a stare eternamente con lui nel suo amore ma quando si parla di inferno Dio non manda nessuno all'inferno è una scelta anche lì dell'uomo che sceglie di andare perché Dio fino alla fine dà opportunità di salvezza e che veramente ciascuno di noi possa essere così pronto a capire qual è la scelta giusta da fare e voler cominciare veramente a conoscere a chiedere a Dio di farsi conoscere nella propria vita Lea vuoi concludere dicendo qualche altra cosa e poi la preghiera vabbè no io voglio dire semplicemente questo spesso mi viene detto ma come fate a capire la parola di Dio come fate a sapere che quella è la verità io dico sempre se una persona veramente alla ricerca del Signore se si mette a pregare e a cercare il Signore il Signore aprirà gli occhi spirituali e quella lettura tu la comprenderai io ho dovuto aspettare un po' nel senso che ho dovuto desiderare di trovare il Signore non ti fermare al primo ostacolo perché poi magari si ci ferma al primo ostacolo invece in realtà dobbiamo essere decisi se tu veramente vuoi conoscere il Signore si è deciso apri la Bibbia anche perché se non si apre la parola di Dio Dio può parlarti in tantissimi modi ma il Signore ha lasciato la Bibbia quindi la lettura della parola di Dio è qualcosa di importante sia per chi ancora deve fare un'esperienza ma anche per i credenti il Signore comunque vuole che noi leggiamo la parola di Dio che ci studiamo di leggerla che ci sfamiamo della sua parola perché comunque lì troviamo i suoi consigli i suoi incoraggiamenti quindi incoraggio chiunque che non l'ha mai fatto a cercare il Signore con tutto il cuore e a leggere la parola di Dio Amen ti invito a pregare per coloro che stanno guardando e che guarderanno dopo Signore ti vogliamo ringraziare Signore per questa serata che abbiamo trascorso insieme e Signore ti chiedo Signore di benedire Signore chiunque stia ascoltando Signore questa testimonianza Signore veramente tocca tu i cuori Signore tu conosci Signore chi sta ascoltando chi sta affrontando determinate situazioni particolari Signore noi non conosciamo Signore ma tu conosci Signore ogni famiglia tu conosci ogni cuore Signore tu conosci Signore ogni vita Signore ti chiedo veramente Signore che tu possa parlare i loro cuori Signore che possano veramente sentire il bisogno e la necessità Signore di cercarti con tutto il cuore Signore perché tu sei un Dio che si vuole lasciare trovare Signore veramente Signore benedici Signore aiuta Signore guarisci Signore incoraggia Signore tutti coloro Signore che in questo momento si sentono scoraggiati Signore perché si trovano ad affrontare delle prove particolari Signore e pensano che non riusciranno a superare quello che stanno attraversando Signore veramente Signore aiutali Signore risollevali Signore incoraggiali Signore liberali tu da ogni situazione ti presento Signore Deborah Signore i desideri del suo cuore Signore che tu possa veramente Signore aiutarla Signore benedirla Signore possa tu benedire Signore queste testimonianze Signore che possono essere veramente Signore ogni cosa guidata da te Signore e che possa essere Signore un canale Signore un mezzo Signore affinché altre persone possano trovarti ogni cosa te la chiedo nel nome di Gesù che è benedettino eterno Amen Amen Ci vediamo la prossima settimana grazie Lea per essere stata con noi Dio ti benedica e condividete la diretta Dio ci benedica la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti